Ebbene se i cari amici del TG Beach, qui da Milano Marittima al VIP Master 2021 in compagnia di bellissime donne, con noi ovviamente Giusy Rizzo Ciao a tutti! E? Francesca della Perla d'Italia, ciao amici! Salli di Modena! E allora rimanete con noi perché oggi puntata stupefacente! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!